E quindi io penso che ridare dignità al lavoro e dignità alla persona sia la priorità della Lega che andrà al Governo. Votando il prima possibile, lo dico anche a qualche alleato che pensa di perdere tempo, prima si vota meglio è, perché questo è un Parlamento abusivo, questo è un Governo abusivo che non merita neanche un quarto d'ora di tempo in più. E quindi lo dico a Berlusconi, pensare di votare a maggio o a giugno è semplicemente una follia. Prima si vota meglio è, perché di danni questi ne hanno fatti già abbastanza.